Mi chiamo Alessandro, ho 23 anni e sono venuto qua in Marocco insieme ai miei collaboratori per portare un nuovo business qua, un business che nessuno ha mai visto. Sono sicuro che questo business aiuterà tantissime persone e per questo stiamo cercando persone come voi, persone che hanno voglia di fare, persone che hanno energia, vogliono credere in quello che fanno e che hanno un grandissimo sogno e sono determinate per raggiungerlo. Vi saluto e spero che accoglierete questa grande opportunità. Tantier, Tantier, Tantier 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 And the world's gonna know your name Cause you're fine with your body frame And the world's gonna know your name And every other one's to the whole thing You can be your brain, you can be the best You can be your change, you can be banging on your chest You can be your dream, you can be the world ates, you can be the best You can be your dream, you can be the best You can move to downtown and break rocks You can be your chance, you can go fast enough You can be your turn, baby Grazie.